Domani è la giornata mondiale dell'Alzheimer e per l'occasione sono stati organizzati eventi per porre l'attenzione su un fenomeno sociale sempre più rilevante, come ha sottolineato Antonio D'Ambrosio, presidente dell'Associazione Molisana Malati di Alzheimer. Siamo arrivati a diagnosticare circa 8 milioni di malati, in Italia 1 milione e 600, nel Molise 7 mila malati di Alzheimer, cioè oramai è un dato sociale che non si può sfuggire, che pesa in qualche maniera sotto ogni profilo, è diventato un ingubo sociale. E' non solo sotto il profilo dell'intasamento dell'assistenza sanitaria, ma è una questione anche socio-economica. Di qui il ruolo importante di medici, psicologi, assistenti, ma anche di associazioni, di volontariato e politica. E per queste ragioni, insomma, ci sta sollecitando, e il Molise è una delle regioni che sta anche più avanti rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno d'Italia, un'attenzione particolare a questa malattia. E qui da oltre 25 anni operiamo come volontariato, come associazione, operiamo in aiuto alle famiglie in modo particolare, perché la scienza medica purtroppo sotto questo profilo è ancora in ritardo per curare la malattia. E quindi il sostegno va pensato e rivolto e organizzato verso le famiglie. D'Ambrosio ha ricordato che nel piano sanitario regionale è inserita un'azione nel territorio a sostegno dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie. Domani dunque Open Day, porte aperte al centro diurno Alzheimer di Campobasso in Via Toscana, dove esperti daranno informazioni sulla malattia attraverso un'azione congiunta pubblico e privato. Speriamo, come dire, che si trovano due elementi di novità nel prossimo futuro. Il primo è che la scienza faccia dei passavanti per la cura e la malattia dell'Alzheimer, ma la seconda è una rete sociale importante di volontariato, e qui l'appello, per sostenerci e sostenere le famiglie malate di Alzheimer.